Il sindaco ha oggi presentato l'idea del piano strategico metropolitano, cosa ne pensa? Qual è la sua opinione a proposito di questo progetto? Sicuramente accogliamo con favore il piano strategico della città metropolitana, un piano importante con uno stanziamento di risorse considerevoli, parliamo sull'ordine dei 400 milioni di euro, a disposizione dei 92 comuni dell'area metropolitana affinché presentino progetti riguardanti spazi pubblici, quindi scuole, parchi, beni del patrimonio artistico e culturale, strade. Ovviamente dovremo farci trovare pronti gli uffici comunali, è un piano che favorisce anche la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni comunali, tra i comuni della provincia di Napoli suddivisi per aree omogenee. Siamo sicuri che questo piano possa portare sviluppo e crescita per il nostro territorio. Il Comune di Sorrento ha già in mente qualche progetto sul quale concentrare parte di queste risorse? Abbiamo un ampio parco di progetti pressoché esecutivi, dovremo confrontarci ovviamente in amministrazione, innanzitutto con il nostro sindaco, con tutte le componenti del Consiglio Comunale e dell'amministrazione e individueremo ovviamente i progetti sui quali puntare. Successivamente ovviamente ci confronteremo con le amministrazioni della nostra area affinché possiamo insieme individuare dei progetti di interesse comune che possono portare alla crescita dell'intera con il peninsolo sorrentino.